Stefano Rosso, di Stefano Rosso, vent'anni all'estero minatore oppure in galleria come editore, scudetti, mezzo, buon meridionale, se ammazzo in Africa sono coloniale, se ammazzo austriaci sono patriota, canto da sempre e non conosco nota, piaccio alle nordiche, specie svedesi, cambio governo quasi ogni sei mesi, sono cattolico per adozione e il lobby invece è la rivoluzione, mio figlio un giorno sarà calciatore per il momento è in terza dalle suore, ma cosa guardi, cosa c'è di strano, chi sono dici, beh sono l'italiano, sono stato il solo a perdere la mano sia col tedesco che l'americano, ma se mi chiedi chi fu Garibaldi uno che nacque presto e morì tardi, ma cosa guardi, cosa c'è di strano, chi sono dici, beh, sono l'italiano. Sian tutti preti navigatori, figli di gnotta, grandi cantautori, mamma una santa, le altre da bordello, se perde il Napoli faccio un macello, se trovo un portafogli perché è vecchio, tv a colori e pane dentro al secchio. Sian diplomatici, laici, estremisti, furbetti asmatici e poi femministi, di calcio tecnici, d'amor maestri, figli di parroci in gite campestri, per i cruciverba siamo i pensatori, quattro infermieri, 106 dottori, ma cosa guardi, cosa c'è di strano, chi sono dici, beh, sono l'italiano. Sono stato il solo a perdere la mano, anzi il pallone con il coreano, sono stato il solo a vincere la guerra, sia con la Svizzera che con l'Inghilterra, ma cosa guardi, cosa c'è di strano, chi sono dici, beh, sono l'italiano. Da vivo sono un po' menefreghista, da morto invece sono nazionalista, specie se ho nomina da deputato, da giornalista e a volte pensionato, ma la domenica ha problemi grossi, segna Giordano o segna Paolo Rossi, ma cosa guardi, cosa c'è di strano, chi sono dici, beh, sono l'italiano, sono stato il primo a perdere la mano sia col tedesco che l'americano, confesso, è vero, ma non è finita, prossima vittima. Tu sai che ha messo in giro la voce su Olivia Pope e mio marito? Ebbene sì, stavolta nel fango, è finita anche lei. Chi ha raccontato?